Quando va bene sono bravate, quando va meno bene sono vandalismi, quando va proprio male sono reati penali. Continuano a ripetersi con regolarità settimanale gli episodi attenzionati dalla questura di Pesaro sulle cosiddette baby gang che gravitano attorno a Piazza Redi, al Parco Scarpellini e al quartiere di Montegranaro. L'ultimo episodio rappresenta l'ennesima recidiva per un ragazzino di appena 13 anni, tristemente emerso agli onori della cronaca degli ultimi giorni. Ieri mattina è infatti arrivata una chiamata al 113 per segnalare una rapina al Conad di via Salvatori. Arrivati sul posto non c'è stata alcuna traccia di assalto al supermercato, ma in compenso è stato intravisto un ragazzino che filmava tutta la scena dell'arrivo della volante. Quel ragazzino è stato subito riconosciuto, è lo stesso tredicenne che giorni prima è stato trovato in un albergo del lungomare con un 17enne e un 19enne in compagnia di una pistola giocattoli e diversi grammi di marijuana. Lo stesso tredicenne poche ore dopo minaccerà i genitori col coltello per poi essere ricoverato in pediatria. Reparto dell'ospedale fanese dal quale è fuggito per poi non perdere tempo nel cimentarsi nell'ennesimo illecito colpo di teatro, ingannare gli agenti con una finta chiamata e nel frattempo postare sui social un furto, questa volta vero, commesso ai danni del distributore di sigarette nel tabacchi di via Flaminia preso a calci assieme ad un compare. Riconosciuto dalla videosorveglianza ma non imputabile in quanto nemmeno 14enne. Pugno molto più duro per i compagni di bravate di 19-17 anni rispettivamente finiti in carcere e agli arresti domiciliari pochi giorni prima. Insomma un problema di sicurezza e un'allarmante criticità giovanile che in questo quartiere di Pesaro dura da un anno e che lo scorso maggio portò la questura al provvedimento, senza precedenti sul territorio, del daspo urbano vietando a sei giovani l'accesso alle zone di piazzaredi ed intorni.